Inevitabilmente stasera si è citata la ZES, zona economica speciale di Puglia e Basilicata, un'area che sta mostrando di essere realmente attrattiva per diverse realtà che già si sono affacciate sul territorio. Ritengo che le ZES siano una scommessa vincente per il nostro Paese. Stiamo attirando moltissimi investimenti, sono state già rilasciate le prime autorizzazioni, c'è forte interesse anche perché le infrastrutture oggetto del PNRR finalmente possiamo dire essere al passo. Le offerte sono pervenute, sono stati già aggiudicati i lavori, pertanto ritengo che la scadenza assegnata dal PNRR possa essere tranquillamente rispettata. In questo contesto ritengo sia importante fare sistema e pertanto coinvolgere tutti gli attori i protagonisti di questa scommessa che ritengo vincente per il nostro territorio. Grazie.